...I used to know somebody... ...però che parola è curiosa, non lo voglio assolutamente modificare. C'è la mano, come stai? Sicuramente su l'altro, e su questo c'è la settimana. Ma non quanto bene, è notte e fa' caldo. E quest'anno senza i tempi da dove sono capi? Comunque queste sono tesserie. E a parte tutto ti scrivo per ringraziarti per tutto quello che stai facendo e che stai facendo esattamente quello che farebbe un padre per una figlia. Però mi raccomando, non ci basta di andare. Ringrazio l'avvocato di Salaiotta per aver preparato la petizione in Artaglia. Ho visto che le figlie aumentano, ma non so fino a quando arriveranno. Le due cause sono toste, ce ne ho massato. Speriamo bene, mi farebbe piacere sapere se è possibile i tempi, cioè la raccolta delle prime quanto tempo basta per avere una risposta, di riconoscimento, ma soprattutto per me e per il mio caso. Quando dentro il cuore devo stare chiuso qua dentro, Dario non pensa di dare un cuore molto tempo da vivere. Se resto qui, la cosa che mi preoccupa è proprio questa, che non ce la faccio più resistere. So che c'è questa conferenza. Parla, parla e dici tutto domani. Soprattutto una cosa importantissima. Io non mangio dal 2010. La gente deve capire che vivo sul filo della sua. Vivo chiuso qui dentro dal giugno del 2011, se volta viva. Sfido chiunque a venire dal 15 del pomeriggio nella mia casa e a non morire soffocata senza aria. Io lo so che tu le sai queste cose. Ma la gente no. La gente non capisce come lo capire e non conosce dalla PCS. Quindi devi dirlo e devi spiegare perché è così. Lo sai, è uno dei miei grandi difetti è quello di dare mai saluto a piangere in pubblico. Per vergogna, per dignità o odore. O pianto solo con te e da sola. Tra queste quattro luna. Per paura di essere non creduta o giudicata. Ma questo mi si è ritorto contro. Perché chi piace con un mal di schiena viene più creduto di finire e c'è lotta per la vita. Ma si vergogna di piangere in pubblico. E allora visto che tu tiene la faccia rossa e qui ce l'avamo a me chiaramente chiama a piena faccia rossa e non dalla montagna. Piangi tu per me. Racconta tutta la verità senza regola e vergogna. Ringrazia il Suocenze e il Vescovo e dirgli che prestassi per me. Adesso vi saluto con le dirvi tante cose magari pure fare qualche scritto. Insomma alla fine. Questa è la lettera a chiedere. E dice lo so che la battaglia è dura, lo so che è per semplice. Andate avanti. E fatelo non solo per me ma per tutti gli ammalati. Applausi. Grazie. Grazie.